Buonasera a tutti, benvenuti o bentornati se ci seguite di consueto e buon anno, buon 2021, è la prima volta che ho l'occasione di dirvi buon anno a nome mio personale, a nome di Sileground, spero che mi vediate, mi sentiate, scusate per questo ritardo ma la piattaforma ogni tanto fa le vizie e spero non sia colpa della rete perché io mi appoggio a Vodafone e come molti di voi avranno visto stamattina c'è stata un'interruzione di servizio nelle reti Vodafone un po' in giro per tutta Italia, io sono a Milano e a Milano abbiamo avuto questo problema, quindi incrociamo le dita e speriamo che tutto vada per il meglio nel caso, scrivete nella chat in modo che cerchiamo di risolvere le varie problematiche legate alla rete, audio, video. Quindi benvenuti, dicevo, bentornati a questa serie di webinar, iniziamo con uno topic secondo me interessantissimo che nasce dal fatto che ho parlato con diversi partner, diversi clienti nel tempo e ho trovato negli analytics, che sarà appunto l'argomento di questa sera, un di quegli elementi che spesso vengono valutati dalle persone ma non vengono analizzati nel profondo. Spesso ho sentito parlare di persone che dicono sì io ho una mole di dati, grande o piccola che sia, perché ovviamente ho un progetto web, ma questi dati poi in realtà non li utilizzo per sviluppare strategia futura e questo ovviamente è una perdita di quella che sono le possibilità che il vostro progetto web può avere. Per questo senza indugiare oltre porto live quello che sarà, quello che è l'ospite di oggi, che è Alessio Semoli. Eccoci. Buonasera Luca, ciao a tutti. Allora io dovrei metterci circa mezz'ora per spiegare tutto il tuo curriculum, quindi cerco di stringare al massimo. Alessio ovviamente è un grandissimo esperto di digital marketing, un imprenditore web. Ha scritto diversi libri sulle tematiche del marketing, dopo linkeremo anche i link ai suoi libri. È professore all'Uyun di Milano, all'università nella quale anche io ho studiato nel corso di marketing. Ed è, se non bastasse, anche amministratore delegato di Prana Ventures, che è un'azienda di venture capital. Quindi diciamo che abbiamo un esperto stasera tutto dedicato a noi, che come al solito farà la nostra presentazione e poi lasceremo spazio alle domande ai quali Alessio risponderà in diretta. Giusto due cose e poi ti lascio spazio. Per qualsiasi cosa mi raccomando potete scrivere in chat, ma se avete delle domande scrivete nella sezione Ask a Question qua sotto. È importante, come sapete, perché se le domande non sono in Ask a Quest, noi ce le perdiamo e non riusciamo a dargli risposta. Seconda cosa, come sempre mi invito a proporre i vostri argomenti per i prossimi webinar. Ovviamente i prossimi sono già organizzati, ma per il 2021 non tutto il calendario è stato presentato, quindi se volete proporre degli argomenti sono ben felice di analizzarli e di parlare con esperti a riguardo. Ultima cosa, se siete registrati sapete che registrazione e presentazione di Alessio vi arriveranno domani via email. Detto questo, lascio la parola ad Alessio, mi taccio e ci rivediamo dopo per la sezione delle domande. Perfetto. Allora, grazie Luca e intanto buona serata a tutti. Quello che vedremo oggi insieme, anzi stasera, è un aspetto molto importante. Vado a condividere le slide. Eccole qua. E quello di cui parleremo oggi è tutto il tema dell'analytics. È un tema molto particolare. Io mi presento molto velocemente. Quello che io faccio oggi è, appunto come diceva Luca, occuparmi di venture capital. Quindi seguo tutto quello che è il mondo dell'innovazione, degli investimenti. Però diciamo nel mio background mi sono sempre occupato di quello che è il tema dell'innovazione. La misurazione è l'aspetto fondamentale. Che purtroppo in Italia, diciamo, ci facciamo poca attenzione, ma è uno degli asset, dal mio punto di vista, cruciali per far decollare ovviamente quello che è un business online. Quindi, io direi di partire. Vi ho portato in questa mezz'ora, 40 minuti, così lasciamo appunto spazio un po' alle domande. Un percorso è anche quello che è un metodo. Perché io credo che oggi non sia importante imparare a utilizzare un software, perché non serve a niente, ma in realtà avere una visione, avere una strategia, avere un punto di partenza, un punto di fine e saper tirare poi le conclusioni. Ok, allora, molto... partiamo molto velocemente. Che cos'è la digital analytics? Allora, per chi non l'ha mai sentito parlare assolutamente, è diciamo un'attività fondamentale, direi, di tutto quello che si può fare nel misurare quello che avviene su un progetto digitale. Può essere un sito, un'app e uno degli obiettivi principali è ottimizzare quelle che sono le attività di marketing online. Quindi, se io oggi investo su Google, su Facebook, piuttosto che su tante altre piattaforme, è molto importante riuscire a capire quale è il ritorno dell'investimento. Vi dico questa cosa perché dall'esperienza che ho avuto negli anni c'è l'illusione, purtroppo, che con un po' di SEO e un po' di social organico, senza investire niente in pubblicità, un progetto decolla. La verità, invece, è che se non si investe, non si porta maggior traffico, in realtà rimaniamo bloccati su quelle che sono quelle piccole performance. Oggi, sapere investire vuol dire anche sapere misurare. E per dire questo, vediamo quali sono gli aspetti principali per cui si utilizza la digital analytics. Allora, sicuramente c'è il tema di, come dicevamo adesso, ottimizzare le performance di una campagna pubblicitaria. Quindi, fondamentale, quando io investo, grazie al tema digitale e tracciamento, so esattamente qual è la parte di pubblicità che funziona e quella parte che non funziona. Quindi, questo tema qua è uno dei temi che mettiamo al primo posto, come importanza proprio da un punto di vista di attenzione. Al secondo posto c'è quello che si chiama processo di conversione. Allora, la conversione, per chi non la conosce, è la parola chiave. La conversione è quel momento in cui un utente che arriva sul nostro sito diventa ciò che noi desideriamo. Per farla semplice, se io vendo un e-commerce, è il momento in cui lui compra. Se ho un hotel, è il momento in cui prenota. Se in realtà, semplicemente, io porto persone con l'obiettivo di generare lead, lead sono dei contatti commerciali, sarà quel momento in cui lui compila la form. Questo è il momento chiave in cui noi ci andiamo a confrontare e andiamo a capire cosa funziona e cosa no. Perché purtroppo c'è la distorsione di valutare un progetto in base al volume di persone che arrivano, però vi direi che non è così importante. L'importante è sapere quanti effettivamente fanno ciò che noi desideriamo, il motivo per cui ne abbiamo investito in un progetto digitale. ovviamente vogliamo analizzare le performance, quindi capire se funziona bene, funziona male, quali sono i contenuti maggiormente visti e capire anche la user experience. La user experience è l'esperienza dell'utente. Trova subito ciò che cerca, in qualche maniera lo stiamo coinvolgendo, i contenuti che stiamo dando sono quelli che effettivamente lui si aspetta e poi arrivare a comprendere e desiderare degli utenti che è un po' l'obiettivo di tutti. Cioè gli sto dando un certo tipo di informazione, ma in realtà quali sono le altre cose che lui vorrebbe. E ovviamente quello che consente di fare l'analytics, che è l'ultimo che vedete in fondo, ma è dal mio punto di vista il secondo più importante dopo le conversioni, è la possibilità di fare dei test per migliorarsi. Questo è un aspetto cruciale che poi lo riprenderemo più avanti, però il concetto è che non esiste il modo giusto di fare le cose, non è che c'è il decalogo per fare le cose funzionali. Dobbiamo semplicemente provare. Provare vuol dire mettersi in discussione, non aver paura di sbagliare e soprattutto lavorare su quello che è un continuo miglioramento. Questo miglioramento, lo vedremo, è legato a un dato che io prendo di riferimento e cerco costantemente di migliorarmi. Difficilmente si fa una cosa, si mette lì e funziona. Quindi quali sono le domande che oggi principalmente chi si occupa di marketing fa? Innanzitutto vedete in quest'immagine il concetto dell'ottimizzazione. L'ottimizzazione si fa su quella che è la metrica principale. La metrica principale, abbiamo parlato di conversioni, ma in realtà è la conversion rate. Mentre le conversioni sono legate a un valore numerico, quindi facciamo la finta che io, che ne so, ho un hotel e quindi ogni giorno mi arrivano 10 promotazioni, 20 promotazioni, quindi ho 10, 20, 50, 1000, quelle che sono, la conversion rate in realtà è il rapporto di queste conversioni, quindi prenotazioni in questo caso, in relazione al numero di visitatori. Quindi la conversion rate mi dice la percentuale di ogni quante persone arrivano e fanno ciò che io desidero. Quindi l'ottimizzazione si muove sempre su questa conversion rate. Non esiste una conversion rate media giusta, non esiste il concetto di giusto sbagliato, tutto sempre relativo, ma è una conversion rate, è un dato mio da cui io parto per cercare di migliorarmi. Quindi magari avrò l'utenza che mi arriva da Facebook, che è una conversion rate più alta rispetto alla media, oppure un altro tipo di campagna pubblicitaria che vado a fare, che ce l'ha più bassa. O magari andrò a vedere che all'interno di queste campagne ci sono dei gruppi di annunci o, come dire, delle sottocampagne che hanno una maggiore conversione, conversion rate o una minore. Questo tipo di confronto è già una grandissima analisi, che mi consente di capire cosa funziona e cosa no. Senza dati, immaginate di avere una black box, quindi un cubo nero dove non so che cosa succede, devo riuscire a aprirlo e capire dentro che cosa ho. Quindi, chi fa marketing oggi fondamentalmente deve rispondere a queste quattro domande, che è quando fare la pubblicità, quindi il concetto di timing, qual è il momento migliore, che cosa devo dire, quindi il contenuto migliore, quale, quindi su quale canale, canale ad esempio funziona più social, funziona più motore di ricerca, chi, a chi mi devo rivolgere, ovvero il mio segmento. Come vedete, queste quattro domande sono le quattro domande cruciali che noi dobbiamo rispondere e grazie all'analytics lo possiamo fare in maniera molto semplice. Quindi, quello che possiamo vedere, questa è un pochino, è un po' forte come immagine, però rende l'idea, è che oggi fare attività di marketing senza dati, esattamente come queste immagini, quindi guidare un'auto con gli occhi bendati. Quindi immaginatevi che oggi, se voi state guidando un'auto e quindi c'è il concetto del controllo che è la vostra azienda, se lo fate bendati, sapete che cosa è. È un messaggio molto forte, ovviamente non da provare, perché, come dire, rende l'idea, ma dall'altra parte vi posso garantire che questo è uno dei principali problemi. Va bene andare ad intuito, ma spesso si prendono degli errori clamorosi, perché semplicemente non stiamo usando tutti i nostri sensi, non stiamo vedendo. Detto questo, perché i dati sono considerati il nuovo petrolio. Sono considerati ovviamente il nuovo petrolio perché hanno questo valore. I dati sono quelli che consentono a un'azienda di incrementare, come dire, il proprio business, di migliorarsi, di capire dove sbaglia. Tutte le più grandi corporation e anche le società digitali che ovviamente stanno avendo risultati pazzeschi, non parlo solo di Amazon, piuttosto che le società simili, ma anche le più piccole, sono ovviamente cosiddette data-driven, cioè guidate dai dati. I dati vi consentono di capire se cosa state facendo bene e cosa state facendo male. Ecco perché sono il petrolio. E utilizzare questi dati è un vero patrimonio aziendale. quindi che cosa succede? Succede che esistono queste figure professionali che sono super ricercate nel mondo del lavoro, molto difficili da trovare, che sono delle figure che si possono trovare, diciamo, in maniera univoca come appunto il digital analyst, quella persona che analizza i dati, magari in un, come dire, come figura a sé stante, ma la verità è che nella maggior parte delle piccole e medie imprese si trova all'interno della figura marketing. Quindi all'interno della figura marketing ci sono queste competenze. Quindi è una figura professionale che permette innanzitutto di fare analisi, perché uno dei temi importanti è avere dei dati corretti su cui avere, come dire, la possibilità di analizzare. Ha un metodo, quindi sa come muoversi, riesce a comunicare anche i dati che si ottengono, perché il vero problema dei dati è che oggi ce ne sono talmente tanti, tanto rumore, noi dobbiamo trovare solo quelli che ci servono per farci fare un'azione di business. Perché, come dire, io sono, come dire, molto scettico sul concetto di analizzare troppi dati, perché poi mi mettono in confusione, ma avere quelli giusti che mi fanno prendere una decisione. Adesso questo lo vedremo anche ancora meglio. L'ultimo step che fa l'analista è quello di, come dire, essere in grado di automatizzare questi processi. Quando vi parlo di analista, ovviamente è una parola che non si collega bene alla figura professionale, perché sembra chi magari ha studiato statistica o chi, come dire, ha fatto un processo di, come dire, scientifico sui dati. In realtà sono figure marketing, le nuove figure marketing che necessariamente devono avere a che fare con i dati, perché il marketing sta sempre diventando più finanziario. Ho tanti dati, li posso usare. Le skill che deve avere, quindi le competenze richieste, sono competenze dove ha una visione globale, non ha semplicemente una visione del suo prodotto, dei suoi dati, delle sue metriche, ma ha una visione generale di come funziona il modello di business, di quali sono le metriche. Le costruisce, rende tutto semplice, attenzione, la parola chiave è rendere tutto semplice, perché nelle complicazioni non ci capisce niente nessuno, dobbiamo rendere le cose più semplici possibili, perché se è una cosa facile da vedere, tutti sono coinvolti e riescono anche a far parte della situazione. Quindi è una figura che ha anche delle competenze che vanno un po' al di là, diciamo, dell'aspetto solo esclusivamente tecnico, ma anche umano. Mi piace raccontare il concetto data-driven prendendo uno dei miei riferimenti sportivi, quello che credo sia un campione che ha dimostrato negli anni. Lo prendo come esempio e questo lo faccio per raccontare il modello data-driven. Chi è successo oggi usa questo metodo, ovviamente non lo fa solo Valentino Rossi, ma lo fanno tutti quelli, ad esempio, nel caso del moto mondiale dei piloti, piuttosto che nella competizione ad alto livello. Il concetto di data-driven è molto semplice, è il fatto di analizzare costantemente le proprie performance. Quindi Valentino Rossi che cosa fa? Utilizza un sistema che si chiama telemetria, ma nel mondo business si usa gli analytics, che semplicemente ci mostrano se quel giro, quell'attività che abbiamo proposto, sta funzionando o meno. Vi spiego meglio. Se Valentino Rossi ha un obiettivo molto chiaro, la sua conversion rate è quello di riuscire a ridurre il tempo sul giro, deve riuscire a farlo nel minore tempo possibile. Per farlo, che fa? Le prova tutte. Quindi prova a cambiare le gomme, prova a cambiare l'assetto, prova a cambiare una serie di accorgimenti e quando fa queste modifiche, se qualcuno ci fa caso, fa una cosa particolare. La cosa particolare è che modifica una cosa alla volta. Modifica una cosa alla volta perché se lui modifica 3-4 cose e migliora, sa che il pacchetto ha funzionato, ma nello specifico non sa qual è quella cosa in particolare che ha fatto funzionare. Quindi quando si fanno degli accorgimenti, dei miglioramenti, si prova una cosa alla volta. Quindi provo le gomme, provo l'assetto, provo il mondo del business nostro digitale, provo una campagna, cambio la creatività, cambio i contenuti. Se faccio tutto insieme, non ci capisco niente, non riesco più a capire cosa effettivamente ha dato un valore e cosa no. Quindi ho fatto l'esempio del moto mondiale per quanto riguarda il tempo sul giro, ma nel modo business è identico. Noi dobbiamo avere un riferimento, quindi prendiamo la conversion rate, sappiamo che la conversion rate è questo rapporto che mi dice effettivamente quanti arrivano e quanti prenotano, quanti arrivano e quanti comprano, quanti arrivano e richiedono informazioni, e comincio a migliorarmi. Ovviamente cercherò costantemente di migliorare e fare quelle modifiche e se vedrò che la conversion rate sale, quindi vuol dire che funziona meglio, se scende vuol dire che ovviamente non è la strada giusta. Questa mentalità è una mentalità del continuo miglioramento, che oggi le aziende sono obbligate a fare dal mio punto di vista. Non esiste che io prendo una moto, la metto lì, funziona, non provo nemmeno perché tanto non cambio niente e è ovvio che arriverò sempre più ultimo, non riuscirò mai a migliorarmi. Quindi qual è la strategia che vorrei consigliarvi? Quindi è anche un suggerimento operativo. Allora, innanzitutto, così le vediamo nel dettaglio, per me sono questi cinque pilastri. Io l'ho identificato così, è un framework, un modello che porto anche a tutte le nostre startup dove noi investiamo per farle crescere, perché quello che è importante è avere una forma mentale, cioè il mindset, la forma mentale è quella che vi consente di gestire le situazioni. Al primo posto, avere un obiettivo chiaro. Quindi vedremo che è fondamentale che sappiamo che abbiamo disegnato. Al secondo posto, sapersi fare le domande, perché ci sono domande che non hanno risposta, quindi dovete essere bravi a farvi delle domande per poi fare analisi. Al terzo posto, riuscire a vedere i dati in modalità cosiddetta actionable. Actionable significa che io vedo i dati e prendo una decisione. Non è che sto un'ora lì a fare analisi. Nel senso, ci sono anche i momenti in cui si fa ore analisi, però generalmente devo essere immediato. Devo prendere, avere una domanda, ottenere risposta, fare qualcosa. Al quarto posto, eseguire test costanti per migliorarsi, quindi sapersi migliorare. E poi quello che definisco al quinto posto è chiudere il cerchio, cioè riuscire a chiudere quelle che sono state, diciamo, le mie ipotesi e andare a lavorare sul concreto. Quindi vediamolo nel dettaglio. L'avere l'obiettivo chiaro per me non è così scontato, perché tutti dicono sì, va bene, l'obiettivo è chiaro, si sa. Vi faccio un esempio molto concreto sul tema social. Io oggi potrei decidere di investire su Facebook e aspettarmi un certo tipo di ritorno. Generalmente funziona così. Si investe su Facebook, ora ho preso Facebook, ma potrebbe essere qualsiasi altro tipo di campagna pubblicitaria, e magari dico no, non ha funzionato. Oppure sì, ha funzionato. Ma la verità è che questo ha funzionato o non ha funzionato deve essere innanzitutto definito prima e deve essere legato a un obiettivo. Gli obiettivi possono essere vari. Faccio attività su Facebook per portare persone sul mio sito? Oppure no, faccio attività su Facebook per far conoscere all'utenza Facebook? O lo faccio per fare engagement? Cioè persone che commentano, scrivono, piuttosto che... Ognuno di questi è un obiettivo diverso. E ovviamente questo obiettivo viene definito prima. Investo per avere questo obiettivo e allora sono in grado di misurare. So che molti non ci credono a questa cosa, ma io la sbandiero sempre, che per me l'obiettivo corretto è veramente l'80% di risultato. E non è così scontato. La maggior parte del motivo per cui tante persone misurano e non ottengono niente è perché non hanno chiaro bene che cosa devono andare a misurare. Attenzione che c'è l'esatto opposto, che è, questo è un mantra che uso anche per me, è che troppa analisi e crea paralisi. Quando noi cominciamo a analizzare troppo e quindi vogliamo entrare troppo nel dettaglio, quindi è una sorta di assuefazione, è un po' come questa espressione di questo volto, di questo signore, troppa analisi crea paralisi. Cioè ci blocchiamo. Se analizziamo troppo i dati, arriva un punto che un dato, come dire, ti dà la risposta contraria. Perché? Perché ci sono troppe informazioni e il rischio di perdersi è veramente facile. È molto semplice riuscire a, come dire, a perdersi in una deriva che non è quella legata al nostro obiettivo. Quindi se noi rimaniamo sul nostro obiettivo, rimaniamo chiari e cerchiamo la musica intorno al rumore dei dati, vedrete che cambia completamente tutto. È molto più semplice anche fare analisi. Al secondo posto, che cosa abbiamo? Abbiamo porsi le domande giuste. Per me porsi le domande giuste vuol dire ovviamente fare domande che siano concrete e oggettive. Sulla sinistra vedete le domande che io definisco senza risposta, tipo, il mio sito è bello? Bello non vuol dire niente. Cosa guarda di importante il mio visitatore? Cosa vuol dire importante? Guarda due device in contemporanea? Che frequenza di rimbalzo ha il mio sito? La frequenza di rimbalzo è l'utente che arriva, guarda una pagina ed esce subito. È una delle metriche che molti guardano. Per me è una domanda senza risposta, perché a me non interessa capire perché uno se ne va. Voglio capire effettivamente chi converte. Poi ci sono tutte le domande legate al concorrente. Il mio competitor cosa fa di più, fa di più, fa di meno? Sono tutte le domande che io definisco domande anche paranoia, perché in realtà non danno nessun tipo di valore aggiunto. Anzi, mettono ansia, che è peggio. Piuttosto che quanto tempo sta sul sito. Allora, vedete che queste domande, se io anche gli do una risposta, non sono actionable, cioè non faccio qualcosa. Le domande corrette devono essere formulate, anche con delle paroline magiche, che sono il quale, come, quando, che identificano in maniera precisa, e attenzione che la nostra mente funziona così, si attiva su delle paroline che gli diciamo. Quindi quale campagna pubblicitaria sta rendendo maggiormente? Quindi la nostra mente va a lavorare su qual è. Quindi sa già che l'obiettivo si aspetta, che è fra tutta la pianificazione che ha fatto, quale funziona di più. Qual è la creatività che performa di più? Quindi di queste campagne funziona più il banner giallo, rosso, vero. Quali sono i paesi più performanti? Vedete, quanto i visitatori che arrivano a dispositivi mobile convertono? Perché se vedo che convertono meno rispetto al desktop, forse ho un problema sul mobile, forse devo fare un'app mobile, forse devo fare una versione mobile, ma me lo pongo dopo che ho verificato questo dato. Piuttosto che l'investimento su Facebook ha avuto un ritorno nell'investimento positivo? Quindi vedete che è molto precisa, domanda secca, devo avere una risposta. Nella parte delle domande corrette siete in grado di trovare immediatamente la risposta. Di là è praticamente impossibile, oppure se trovate la risposta non vi serve a niente. Al punto 3, vedere i dati in modalità actionable. Che cosa vuol dire? Vuol dire che devo prendere una decisione. Quello che vedete qua è uno screenshot di Google Analytics, che ovviamente è il tool, diciamo, incontrastato, che tutti usano al mondo, perché è gratuito e perché funziona molto bene e potente, dove immediatamente io riesco a capire nella parte, diciamo, di sinistra le campagne pubblicitarie, le fonti di traffico, mettiamole così, che mi fanno arrivare utenti al mio sito. E poi ho una serie di dati. Quello che vedete, che è il dato più importante, il famoso tasso di conversione dell'e-commerce, eccolo qua, quindi questo 0,48%, mi dice che il mio sito converte allo 0,5%. Quindi vuol dire che ogni 100 persone che arrivano, mezzo, in questo caso un e-commerce, compra. Quindi ne servono 200 per farne uno, fare un acquisto. Quindi quello che mi interessa a me, Actionable, è capire subito. Quindi 0,48% alla media. Eccola qua. Chi fa di peggio? Chi fa meglio? E io immediatamente riesco a capire, a colpo d'occhio, quali sono le campagne pubblicitarie, o le fonti di traffico, in questo caso, che fanno di più e che fanno di meno. Cosa fa il mio competitor? Non me ne frega assolutamente niente, perché io miglioro il lavoro su me stesso. E quindi in questo caso, l'1,14% ad esempio, mi dice che questa campagna qua è molto performante. In questo caso si chiama Branded Paid Search. È una campagna pubblicitaria a pagamento su Google legata al proprio brand, al proprio, come dire, nome. Quindi vuol dire che il mio brand è molto ricercato e converte. Magari, vedete qua, social, in fondo, sta qua. Se io dovesse guardare a livello di volume, direi, va schifo. Cioè, non funziona. Mi ha portato solo 623 sessioni. Cioè, quindi, gli utenti me ne ha portati pochissimi. Infatti, questo report è ordinato così. Ma magari, vado a vedere, il tasso di conversione è molto alto. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire, caspita, sto portando poco traffico dai social, ma quel poco traffico converte molto bene. Quindi, per me, questo vuol dire che se io investo di più nei social, potrei far salire questo tipo di utenza e avere una maggiori vendita perché il tasso di conversione di quella fonte di traffico funziona molto bene. Ovviamente, sono tutte analisi che si fanno e, come dire, ora, in questa mezz'ora è una panoramica, però voglio darvi degli spunti su quello che si fa perché, alla fine, queste attività che vi sto facendo vedere sono quelle fondamentali da dove si parte, dove comincio a analizzare, capire quali sono, ad esempio, in questo caso qua, questo qua è un e-commerce che, vabbè, fattura abbastanza, dove io vedo, in questo caso, anche il fatturato perché in Media Analytics si vede il fatturato e, oltre al fatturato si vede il tasso di conversione, quindi io riesco a capire qual è la fonte di traffico che converte maggiormente. Al solito discorso, 0,73 è la media, io so che l'email fa l'1,10%, quindi le attività di email stanno funzionando molto bene, le attività dei comparatori stanno funzionando molto bene. Attenzione, vedete, Facebook Remarketing, eccolo qua, numero 7, fa 0,47% di commercial rate converte in peggio. Le analisi che stiamo facendo sono molto rapide, ma siamo subito in grado di dire, ok, c'è un problema. Dove c'è un problema, ovviamente, posso andare a intervenire e cercare di migliorare. Questo è il meccanismo, lo stiamo vedendo sui canali, ma potrei vederlo sui paesi, lo potrei vedere sulle parole chiave, sulle creatività. L'approccio è sempre lo stesso, è quello di riuscire a capire quali sono quegli elementi che mi fanno ottenere il risultato e quegli elementi che invece mi tolgono il risultato. Ottimizzando la parte che mi toglie il risultato, ovviamente, cambia completamente la prospettiva. Per vedere dati in modalità ancora più actionable, è possibile, grazie agli analytics, in particolare a uno strumento che si chiama Google Data Studio, di potersi creare delle dashboard, cioè delle grafiche personalizzate, avere dei report ancora più actionable, perché sono fatti da noi, li capiamo noi con la nostra mente che li ha creati e hanno dei bellissimi torte, hanno dei grafici e consentono anche di avere, come dire, un'attività in tempo reale che possiamo condividere. Questo approccio è quello che si chiama Data Visualization, qui visualizzazione del dato, che va a lavorare molto proprio sull'aspetto visivo perché, attenzione, la nostra mente funziona così. è molto brava a vedere, a immaginare, a fotografare, è pessima a immagazzinare dati, quindi non ha molte capacità nel vedere le tabelle molto grandi, quindi la visualizzazione del dato grafica aiuta molto la nostra mente a prendere decisioni. Un dato che cresce, sale, mi fa capire in maniera immediata cosa sta succedendo. Questo è molto importante per poter prendere decisioni anche costanti. Punto 4, è un punto che richiederebbe molto tempo a disposizione ma mi interessa come dire, raccontarvelo. L'abbiamo detto, per migliorarci dobbiamo assolutamente fare dei test. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che rimettiamo un po' in discussione anche il marketing o diciamo gli approcci utilizzati fino ad oggi che magari danno per scontato certe cose e facciamo in modo che la nostra utenza, la nostra clientela ci dica qual è come dire la situazione migliore in cui si trova. Vi spiego meglio. Se ad esempio io sto facendo un sito la faccio semplice sono deciso sulla parte diciamo di colore potrei fare una versione viola e una versione rossa e poi tutti i miei utenti li porto sopra e in automatico vengono smistati. Ecco perché A, B, test ma in realtà posso fare A, B, C, D quanto ne voglio e quindi una persona vedrà la versione viola uno vedrà la versione arancione uno vedrà la versione verde e così via e alla fine quelli che avranno fatto le maggiori conversioni su una versione di colore piuttosto che l'altra saranno quelle che vincono e sono quelle che effettivamente mi dicono che sta funzionando. Quindi se funziona maggiormente quella viola anche se magari a me il viola non piace ma attenzione spesso noi siamo un limite perché è la nostra utenza che ci deve dire cosa gli piace noi capiremo che la versione viola è quella che fa convertire maggiormente quindi il sito sarà di quel colore ho fatto un esempio sul colore ma potrei farlo su qualsiasi cosa sulle campagne pubblicitarie su un testo su una disposizione su tanti elementi che dobbiamo testare questo è l'unico modo che io conosco per migliorarsi faccio un test provo e vedo che cosa succede per fare un esempio un po' che magari non c'entra tanto però un po' come quando voglio perdere peso ho la bilancia che è il mio analytics ho un certo tipo di comportamento e vedo se perdo peso oppure no in base a quello imparo e in qualche maniera mi adatto e cambio strategia e il meccanismo è lo stesso ho preso così per provare ho trovato semplicemente su SiteGround due annunci pubblicitari in realtà non sono proprio una bit test è proprio per farvi capire ad esempio se io volessi capire su Facebook se funziona maggiormente la creatività standard o la creatività quella definita carosello dove ho più immagini io semplicemente farò vedere ad alcuni utenti un certo tipo di creatività ad altri utenti un altro tipo di creatività e poi vedrò quegli utenti che sono arrivati sul mio sito quali hanno convertito maggiormente se vedo che quella del carosello questa qua funziona maggiormente vuol dire che effettivamente sta funzionando e potrei dedicargli più investimento potrei cercare anche di migliorare quest'altra perché sono strategie non è detto che per forza devo prendere sempre il vincitore posso cercare di capire anche perché quella funziona meno e cercare di migliorarla in questo caso teoricamente dovrei avere i testi uguali così di differenziante c'è solo esclusivamente l'immagine o come dire l'interfaccia ci consente di capire qual è il percorso migliore che gli utenti preferiscono per convertire perché vi ricordo mi interessa la conversione non mi interessa che arrivino tante persone mi interessa che arrivino quelle giuste ultima cosa importantissima è chiudere il cerchio chiudere il cerchio cosa vuol dire attenzione questa va molto sulla parte personale allora attenzione ciò che voi dovete cercare non è la perfezione perché non esiste ma i progressi allora quello che è una strategia che si insegna per cercare di migliorare questo concetto della progressione del miglioramento è quello anche di fare delle ipotesi l'ipotesi che cos'è è un qualcosa di abbastanza molto definito dove io ipotizzo che facendo un certo tipo di attività eccolo qua quindi se facendo questa attività strategia si verifica che risultato ho imparato che valutazione facciamo un esempio che abbiamo appena visto se utilizzando il carosello perché secondo me funziona di più perché dando più immagini do più possibilità o do più visibilità è una mia strategia è una mia visione devo metterla come dire in pratica devo provarla si verifica che converte di più ho imparato che grazie al fatto che ho aggiunto più immagini alla creatività di facebook le persone hanno una maggiore conversione quindi quello che io mi devo sempre chiedere è che cosa ho imparato in ogni situazione che si verifica provando a lavorare molto sulla parte predittiva cioè previsionale devo prevedere le cose la parte previsionale è quella su cui noi dovremo scontrarci a breve perché l'intelligenza artificiale di cui tanto si parla che tra l'altro è una delle mie materie su cui sto investendo molto tempo anche di studio personale funziona così funziona che ha tanti dati a disposizione ipotizza una cosa la prova e vede si è verificato ciò che ho pensato sì bene ho imparato ho messo da parte del mio cassetto diciamo degli attrezzi delle cose che funzionano no benissimo ho imparato come non si fa una cosa immaginate che l'intelligenza artificiale la fa un total secondo ne fa tantissime di prove è così che impara è così che migliora è così che le auto a guida autonome saranno sempre di più nella nostra città perché hanno tanti dati e costantemente provano e si ottimizzano ovviamente prima in test per quando sono pronte le mettono in giro ma oggi già vediamo delle auto che vanno a guida autonoma e il meccanismo è fondamentalmente questo quindi sviluppare questa skill questa competenza personale di ipotizzare sviluppa anche una sorta di sesto senso nel comprendere le cose che vi aiuterà in ogni attività andate a fare per chiudere così vi lascio spazio alle domande dal mio punto di vista quello che serve per questo nuovo mondo sono delle soft skill le soft skill sono quelle competenze più personali le hard skill sono le competenze più legate al conoscere tecnicamente delle cose in questa immagine che ho fatto qualche anno fa cosa ho fatto? ho messo diciamo nella parte inferiore quindi nelle radici quelle che sono le essenze delle soft skill quali sono le più importanti quindi le vediamo sono il pensiero critico quindi vuol dire che devo mettere in discussione le cose perché devo comunque non per forza una cosa deve essere fatta in quel modo lì ma mettere in discussione quella che viene detto anche il pensiero laterale cioè riuscire a vedere le cose da un'altra prospettiva ovviamente per chi lavora in team l'intelligenza emotiva la leadership la leadership anche in quello che si vuol dire nella comunicazione tutte queste competenze queste radici tanto più sono grandi tanto più sono grandi rami delle hard skill quindi sapere usare google sapere usare facebook youtube i social le mail marketing le commerce l'analytics sono tutte hard skill ma attenzione è molto importante avere la parte sotto bilanciata perché vedrete sempre di più che se voglio fare social comunque devo avere un certo tipo di visione devo essere disposto alla critica devo essere disposto alla condivisione alla comunicazione se faccio attività di analytics devo essere bravo in grado di distribuire far sapere queste informazioni e così via per tutte le altre attività che si vanno a fare quindi quello che oggi è importante non è solo esclusivamente conoscere tecnicamente una cosa ma questo è un suggerimento che do in più ma anche migliorare a livello personale vi posso garantire che l'analytics vi aiuterà moltissimo perché semplicemente vi dà un riferimento dicendo ti sì hai fatto bene no non hai fatto bene puoi fare meglio riprovaci nessuno vi viene giudicato e non dovete avere paura di sbagliare perché l'unico modo per imparare e per crescere è sbagliare vi ringrazio ovviamente aggiungetemi sui social dove volete e ovviamente adesso sono a disposizione per le domande grazie mille rieccoci spiegazione chiarissima presentazione chiarissima veramente ho visto già incominciare ad arrivare un bel po' di domande quindi sotto subito e vediamo di rispondere allora prima di tutto ripeto ripeto sempre tante volte ma siccome è una domanda che viene fatta di consueto se doveste non avere tempo di rimanere qua fino alla fine della conclusione della live non vi preoccupate che domani mattina come dicevo anche prima vi arriveranno o al più domani pomeriggio vi arriverà la registrazione con anche le le slide di Alessio e se avete adesso delle domande per favore vedo già tipo Laura che sta scrivendo in chat scrivetele nella sezione AskQuest non in chat in modo che non ci perdiamo allora io partirei subito con la prima domanda di Emanuele che è in riferimento a Google Analytics 4 4 che dirà si voglia è una domanda abbastanza generica nel senso che chiede su Google Analytics 4 aspetta nel frattempo me le stanno votando quindi mi stanno scalando le domande se ci sono particolari segnalazioni da fare novità che sono state introdotte soprattutto in merito alla GDPR allora dunque Google Analytics 4 secondo me ancora non sta funzionando bene ha dei problemi ci sono ancora lo stanno hanno voluto fare uno step molto importante e cambia un po' il modo di fare il tracciamento è molto legato agli eventi quindi è molto legato a quello che come dire può succedere su un sito quindi anche le piccole azioni mentre prima Analytics quello diciamo tradizionale che usiamo oggi era molto più specifico lato GDPR ovviamente segue le regole della versione precedente quindi ha la possibilità di potenziare l'indirizzo IP come richiede piuttosto che lavora molto sull'anonimizzazione e è ovvio che poi come sempre gli Analytics rispettano la privacy perché nessuno sa chi sia effettivamente l'utente poi su questo Google sta ovviamente molto attento tra l'altro aggiungo che fra due anni succederà un bel problema perché i cookie spariranno ci saranno come dire nuovi modi e quindi tutti stanno lavorando nella direzione di come dire anonimizzare e riconoscere l'utente senza avere troppi dati a disposizione che adesso sono sbagli di default per Google per Analytics for allora questa invece è una domanda in realtà più per me nel senso che ma secondo me è una domanda che posso girare anche a te nel senso che chiede non ricordo il nome Alessandro come mai si riscontrano differenze in questo caso tra le statistiche di Google Analytics rispetto a quelle di SiteGround faccio poi in realtà giro la stessa domanda anche a te la faccio più generica come mai tante volte riscontriamo differenze di metriche o di numeri scusami per quanto riguarda Google Analytics e altre altre piattaforme di analisi per quanto riguarda SiteGround allora premesso che io non sono un analista e comunque io consiglio sempre di fare un salto in assistenza per verificare quelli che sono le discrepanze soprattutto sono enormi faccio un esempio se hai dati che sono 10 volte superiori o inferiori rispetto a quelli che sono in Analytics sicuramente vai a fare un check con l'assistenza altrimenti la risposta più diretta semplice che posso dare è che comunque le metriche che vengono valutate vengono valutate in modo differenti dalle due piattaforme questo non vuol dire che l'uno o l'altro stanno sbagliando ma che semplicemente si stanno approcciando in modo differente ai dati o a dati differenti faccio un esempio banale però mi puoi correggere te Alessio se sbaglio quando si vanno ad analizzare i dati l'intervento o meno nell'analisi dei bot potrebbe far variare quelli che sono i dati da 0 a 1000 non è un esempio se si prendono in considerazione o meno allora se ripeto a tutte le persone che comunque hanno anche votato la domanda quindi immagino abbiano lo stesso problema io consiglio sempre comunque di fare un salto per quanto riguarda SiteGround in chat di assistenza in modo che loro stessi gli operatori possono controllare quelli che sono i valori sballati eventualmente e dargli un'indicazione sul perché c'è questa discrepanza io se posso aggiungere guarda la verità che negli anni ho usato tantissimi tool e poi ognuno ha la sua metrica il suo metodo ha il suo modello quindi mai compararli perché come dire ognuno ha la sua storia la differenza sostanziale presumo che SiteGround lavori sui file di log cioè quindi sui file lato server mentre invece Analytics lavora invece sulla pagina diciamo lato client quindi più diciamo JavaScript ovvio che il file di log è molto più completo però raccoglie anche altre attività tipo i bot però la verità è che quello che dico sempre non è importante la comparazione tra i due strumenti se io uso uno o l'altro l'importante è che su quello strumento lì i dati siano come dire comparabili perché alla fine le attività che faccio sono sempre le stesse sì no ottima precisazione vedo poi che ci sono tante domande allora faccio io anche una premessa per queste domande sono domande più specifiche sulla per esempio sul collegamento di quello che è Google Analytics per esempio a un sito WordPress piuttosto che a una campagna MailChimp piuttosto a quelle che sono delle campagne non so se vuoi accennare qualcosa il punto qual è lo dico io per tutti è che si va tra virgolette più nel dettaglio e ovviamente servirebbe un corso dedicato all'analisi dei dati e come utilizzare in questo caso Google Analytics nello specifico e quindi noi quello che riusciamo a fare quello che possiamo fare ogni mese sulle grandi tematiche che affrontiamo e poi dare un'imparinatura un'idea generale e poi nel caso se lo dirà adesso Alessio gli ospiti che noi invitiamo sono comunque esperti del settore e non so se nel tuo caso fai anche consulenze piuttosto che su dei temi specifici questo lo chiedo a te sì no diciamo che lei abito no scherzo no è che ne faccio già tanti quindi è una domanda è una risposta accettabilissima nel senso cercavo di dare una risposta ai tanti che giustamente dicono come mai non andiamo a analizzare nello specifico le integrazioni di questo e di quell'altro il problema è che verrebbe fuori una live di 72 ore e diventa complicato guarda io credo che poi ovviamente in mezz'ora non si riesce a toccare tutti gli argomenti però è un'infarinatura è una visione io credo che sia molto importante avere una cornice dove poi inserire all'interno tutti i pezzettini e la cosa importante che mi va di comunicare perché io condivido moltissimo di quelli che sono i contenuti è legato al fatto che non è che si deve imparare ad utilizzare un software come dicevo prima ma avere chiaro un obiettivo poi che sia uno o un altro io ci posso lavorare lato MailChimp WordPress vi posso dire questo che sono tutte le piattaforme ma praticamente tutte le più importanti sono integrate con Google Analytics quindi ovviamente dovete lavorare al contrario quindi vado su WordPress e trovo il plugin per configurare Analytics che addirittura mi fa il tracciamento degli eventi addirittura mi fa tante belle cose vado su MailChimp e trovo l'add-on o il plugin per integrare Analytics il vantaggio di Analytics che essendo uno strumento diciamo globale è ovviamente integrato con tutte le piattaforme però uno a un certo punto va e cerca integrazione MailChimp Analytics e vedete che è tutto molto semplice sono collegamenti secondo me il punto non è lì ma cosa farci cioè perché sto integrando MailChimp con Analytics perché giustamente voglio capire le mail marketing quando faccio l'invio se funziona oppure no questo è diciamo più legato alla strategia poi senza voler scaricare il barile su altri io aggiungo anche che noi offrentiamo sempre delle tematiche generali cercando di dare un seme a tutti voi a tutte le persone che utilizzano e hanno progetti online come in questo caso ha fatto Alessio oggi sui dati digitali e poi in realtà esiste il web l'internet è ricco di guide corsi anche gratuiti tutorial sull'utilizzo di tante piattaforme è forse più importante è importante fare tutto ma è forse più importante dare la base l'idea di quello che si deve andare a fare per poi specializzarsi nel dettaglio autonomamente piuttosto che andare subito nel dettaglio senza dare quelli che sono le imprimature le basi principali questo non toglie che poi nei prossimi webinar visto che ne facciamo tantissimi all'anno andremo anche a vedere quelle che sono le integrazioni e gli utilizzi della piattaforma nel dettaglio faccio una cosa che non dovrei fare leggo una domanda che c'è in chat giusto perché Paola dice che ha letto il tuo libro sull'intelligenza artificiale e chiede se ne hai fatto anche uno sulla digital strategy e mi pare di sì o sbaglio e diciamo io sui libri ho affrontato più il tema di analytics la marketing automation e l'intelligenza artificiale che è un po' diciamo il percorso quindi ho il dato lo automatizzo poi lo rendo intelligente e sulla strategia ci sono tantissimi libri anche della collana di Epli o piuttosto che altri c'è molto in giro quello che io consiglio quello che noto insegnando anche da un po' di anni è che c'è questo senso di impreparazione è un po' come se uno va costantemente a fare allenamento si allena si allena si allena per andare a fare una gara e non si presenta mai alle gare perché ha paura di non essere allenato il consiglio che vi do io è buttatevi cioè quando vi sentite pronti comunque anche se non sentite di dominare tutto perché vi garantisco che nessuno domina tutto partite e provate perché i veri insegnamenti si hanno provando le cose quindi è il famoso learning by doing no? cioè quindi provo va bene cerchiamo di andare un po' più spediti perché sennò qua non lo esciamo vivi allora prossima domanda chiede Chiara perdo molti dati importanti se anonimizzo gli IP? no anche perché come dicevamo prima Google Analytics adesso dal 4 lo fai di default quindi sarà tutto così ma non c'è niente esatto esatto chiede invece questa è un'agenzia web si chiama Maven Web Agency dice qual è il budget pubblicitario richiesto secondo te per ottenere un sufficiente quantitativo di dati da analizzare di che ordine di cifre si sta parlando perché dicono le inserazioni sulla rete di ricerca ad esempio con offerte inferiori ai 2 euro raccolgono pochissimi click e quindi pochissimi dati questo immagino si riferisce a Google Ads l'acquisto di parole chiave allora quello che dico ovviamente 6.12 euro vuol dire che è una keyboard molto competitiva magari un settore particolare immagino ad esempio mondo finanziario piuttosto che però al di là di questo cioè secondo me si parte anche con budget molto piccoli non importa avere per forza dei budget enormi su un budget piccolo almeno 100 200 visite magari arriviamo a 1000 visite ci vorrà più tempo magari non ce l'abbiamo in 3 giorni ce l'avremo 20 giorni un mese non è un problema però l'importante è chiudere il famoso cerchio che dicevamo prima ho investito questa cifra ho avuto questo ritorno sto in piedi non sto in piedi come posso ottimizzare quindi ovviamente direi almeno un migliaio di visite ce le devo avere per avere un dato poi ovviamente i dati più ce ne ho più sono vertieri allora io intanto sto leggendo un po' le domande non me ne voglia qualcuno se magari metto prima le domande di altri però sto facendo un po' una summa di diverse domande come prima lo dicevo per la domanda come posso integrare analytics con MailChimp eccetera vedo tante domande sul come faccio a vedere le statistiche base del mio sito come faccio a vedere le pagine gli utenti mensili i guadagni piuttosto che ora io non so se tu ce l'hai magari in background hai una schermata di analytics da far vedere al volo se no lo possiamo dire a voce sì guarda in maniera molto semplice su analytics ci sono quattro macrovoci che sono pubblico acquisizione comportamento e conversioni quindi pubblico sono tutte le informazioni inerenti alla persona quindi da dove si collega se mobile desktop tablet a quale città piuttosto che su comportamento o come si sta comportando quindi quale pagine guarda quanto tempo ci sta piuttosto che su acquisizione è da dove arriva dai social da google piuttosto che e conversioni è quando converte quindi queste quattro macro caselline c'è tutto ovviamente sto dando una risposta di un minuto però certo certo esatto poi esplodendo ogni etichetta c'è un mondo è come tutte le cose potremmo stare a parlarne per ore è ovvio bisogna passarci del tempo che però è anche un tempo di apprendimento personale e anche di se vogliamo a me mette molta curiosità vedere gli analytics cosa che io potrei anche non fare perché ho gente che ovviamente nell'azienda lo fa per me ma io sono molto curioso di mio e vedo sono curioso nel vedere che cosa funziona e che cosa non funziona i tempi di lettura dei post su blog anche banalmente tutti i webinar che noi facciamo quelli che convertono non convertono chi flagga o meno sul fatto di voler continuare a vedere dei webinar vuol dire che quello di cui abbiamo parlato ha funzionato o meno cioè gli analytics poi sono un mondo che vanno bene oltre il google analytics singolo guarda l'argomento blu che è proprio la curiosità la curiosità è quella che ti guida aggiungo solo una cosa velocissima da 20 secondi io quello che insegno sempre è questo non entrare dentro analytics se non hai una domanda precisa a cui devi rispondere ti fai la domanda prima entri dentro in queste quattro caselline sai più o meno dove andarla a cercare entri dentro ti prendi la risposta e te ne esci questo è l'atteggiamento perché con quel dato fai qualcosa se cominci a girare perdi tempo non è un facebook assolutamente se incominci potreste starci delle ore poi alla fine non arrivi alla ciccia allora prossima domanda di giovanni fino a che punto secondo te ha senso fare analisi dei dati e pongono proprio un esempio pone proprio un esempio dice ovvero un e-commerce con volumi di vendita importanti ha sicuramente senso per questo e-commerce fare tanta analisi di dati ma quando si parla di e-commerce con volumi di vendita bassi medio bassi o piccoli quanto ha senso realmente fare analisi e quanto potrebbe addirittura venire a costare non verrebbe a costare troppo per una piccola media impresa prendere qualcuno che fa solo data analysis se hai visto la slide della guida che tu guidi una piccola auto o un diciamo una macchina Formula 1 sei sempre vendato immagino che tu in questo momento stai facendo un'attività nel piccolo per diventare sempre più grande per aumentare il tuo fatturato o comunque per consolidarlo hai bisogno di dati senza dati non riesci a lavorarci non riesci a come dire a migliorarti stavo leggendo scusami è Giovanni che è la stessa persona che ha fatto la domanda sta scrivendo in chat diceva le PM italiane hanno circa 70-90 dipendenti perché le medie imprese in realtà italiane ne hanno molte di meno mi verrebbe da dire ma giustamente dice Giovanni non hanno molto budget ma guarda in realtà qui il meccanismo è un po' un cane che si morde la coda cioè nel senso che alla fine sì sono d'accordo senza dati non vado nessuna parte comunque diciamo che quello che funziona è così se tu non investi in pubblicità rimani lì fai quelle cosettine cioè alti e bassi sono molto come dire sottili hai bisogno di crescere in maniera importante l'unico modo è investire portare più traffico che investi in un modo o in un altro però voglio dire non è che sia una novità questa cioè l'advertising è ovvio è fare impresa allora chiede Fausto però è stata votata come domanda qual è il miglior plugin per interagire per integrare scusa gli analytics con wordpress te lo lascio rispondere a te ma io io personalmente userei google analytics sempre comunque sì guarda in realtà cioè il plugin fa una cosa molto banale che è quella di prendere un codice e metterlo dentro che è veramente semplice se proprio vuoi semplificarti la vita al massimo ci sono dei plugin che ora non mi ricordo il nome che ti fa mettere solo esclusivamente il tuo nome utente che è ancora più come dire semplice però non fa niente di strano perché è un codice molto piccolo da inserire in tutte le pagine wordpress ti permette di avere un plugin che te lo fai in automatico altra domanda sempre sulla nuova versione di google analytics dice trovo molte meno informazioni e dati rispetto alla versione precedente il processo di scelta della versione più recente è irreversibile cioè si può tornare indietro con la vecchia versione allora sì però il problema è che tutte le nuove viste oggi partono già con la 4 fino a un certo tempo è stata data la possibilità non so se ancora però sì il problema è vero che il nuovo analytics ha un approccio diverso mentre quello che vi ho detto prima dei vari 4 scompartimenti erano report già fatti sul 4.0 vanno disegnati cioè sul nuovo analytics vanno più creati è una via di mezzo tra quello e data studio però ancora molto faraginoso non sta convincendo quasi nessuno al momento poi sicuramente faranno uno step di miglioramento come hanno sempre fatto che poi non è in beta nel senso che è già avanzata come soluzione però per me è sempre una beta perché io lo sto usando ma è un salto molto grande cioè la verità è che già oggi in Italia si fa fatica a fare analisi quello è un salto importante quindi però ci abitueremo al più semplice va bene va bene invece domanda da Linda sempre però sul tema e-commerce chiede Linda quali sono i tre dati più importanti che suggerisci scusami di guardare su analytics per un sito e-commerce tasso di conversione tasso di conversione sempre il valore meglio della vendita perché ti fa capire da dove arriva e sicuramente quello che è ovviamente le persone che si registrano e che non comprano quindi il famoso funnel quindi dove perdo le persone perché potrei la registrazione le spedizioni il pagamento e la conclusione dell'ordine quindi dove escono e nel caso ovviamente è sempre le campagne pubblicitarie perché un e-commerce vive di questo di traffico dove io compro per portare persone per trasformarle in clienti che invece dice semplice semplice come si può fare a fare ricerca in analytics delle keywords se si riferisce all'ambito organico quindi SEO la brutta notizia è che da diversi anni non ci sono le parole chiave quindi noi non sappiamo esattamente con quale parola chiave l'utente arriva sul nostro sito da un punto di vista organico perché se un utente naviga dal logato cioè quindi con la propria gmail inserita e fa una ricerca arriva sul sito che ha l'analytics sotto non gli viene passata la parola chiave per un problema di privacy più o meno invece se uno non è logato quindi è anonimo teoricamente la parola chiave arriva ma la verità è che più o meno si trova all'interno di come dire del report not provided quindi non ci sono pari al 96-97% quindi in realtà la verità è che non ce l'abbiamo giustamente come scrive Luigi c'è la search console che però la search console trovate all'interno di analytics è uno strumento che in realtà vi dice cosa succede prima su google quindi vi dice le persone che vi hanno cercato e così via ma non sapete qual è la parola chiave che ha convertito questo è vero problema perché quindi io investo tempo in organico nel posizionare il mio sito e posso intuire quali sono le parole chiave ma non lo so con certezza quelle che convertono allora posso dire che sicuramente dà un grande supporto la search console almeno parlo per me nel senso che sicuramente nell'analisi di quelle che sono le strategie poi su cui investire è sicuramente utile però è vero quello che dice Alessio poi non si può non si può avere poi la certezza effettiva al 100% chiede invece Stefania nel caso della cancellazione di un sito la cancellazione della sua proprietà su analytics avviene in automatico no semplicemente se non c'è più il sito non ci sarà il codice di analytics che manda i dati e quindi ci sarà un account che non avrà più le informazioni più i dati però rimanda lì e quindi teoricamente devo andare a eliminarlo ok ti rubo ancora diciamo se ci da disponibilità 5-10 minuti massimo massimo anche perché se no la diretta almeno chiudiamo le domande rispondo io prima una domanda perché mi chiede Liliana se sarà possibile in futuro parlare dei contenuti di un sito internet ti chiedo Liliana se sei ancora live di scrivere nel dettaglio che cosa vorresti magari anche contandandoci sui nostri social noi abbiamo già fatto un webinar sui contenuti più nello specifico nelle pagine di vendita cioè come organizzare e costruire contenuti all'interno di una pagina di vendita in modo da convertire meglio però se hai qualche idea qualche richiesta particolare puoi scriverlo tranquillamente anche qua in chat e sicuramente lo valuteremo poi domanda invece per te quando facciamo i test e gli abitest ci sono possibili problemi di contenuti duplicati no immagino si riferisce lato SEO quindi posizionamento ah ok non riuscivo a cogliere ok in realtà no perché ad esempio usando un tool di Google Analytics che si chiama Google Optimize che è fatto veramente molto bene semplice che vi consente di fare abitest con una sorta di editor voi modificate i testi in realtà lui non crea delle pagine ma per l'utente che arriva gli fa vedere due versioni differenti che in realtà sono soltanto una sua percezione come se gli modificasse come dire la grafica del sito il contenuto però non crea un contenuto effettivo quindi non c'è un problema di duplicati anche qua metto in blocco un po' di domande visto che stiamo parlando di abitesting viene chiesto intanto Ross chiede velocemente ma proprio in un secondo come si fa a organizzare un abitest cioè che cos'è un abitest se vuoi dirlo in due parole o lo dico io e poi Francesca e altri utenti chiedono detto che cos'è l'abitest come si fanno a smistare gli utenti e cosa succede se nessuno dei due funziona vuoi provare a rispondere in blocco allora velocissimamente l'abitest è lo strumento che serve per testare provare qual è una soluzione grafica di contenuto di disposizione quello che vogliamo che funziona maggiormente partendo dal concetto che non lo sappiamo ciò che funziona proviamo e quindi ad esempio il pulsante acquista compra piuttosto che altre paroline qual è quello che funziona di più quindi le mettiamo tutte in test e vediamo quelle che funzionano maggiormente e cosa succede è che in automatico lo strumento molto semplice di Google Optimize che lo fa per noi smista questo traffico quindi se arrivano 100 visitatori 20 vedranno il pulsantino compra altri 20 vedranno il pulsante acquista e così via alla fine noi capiremo quello che ha convertito maggiormente quello che ci ha permesso di far funzionare di più quindi l'abitest serve a questo una volta che abbiamo capito qual è il bottone che funziona lo scegliamo perché ci fa migliorare la conversion rate però vedete sempre legato a una metrica che per me è cruciale in questo caso la conversion rate allora siamo in direttura d'arrivo perché condenso un po' le domande chiede Rosa questa è una domanda qual è il modo migliore per imparare ad utilizzare un tool di digital analytics come google analytics provare allora se lavori per un'azienda che è analitics fatti dare accesso quindi basta che inseriscono la tua mail e tu accedi se non ce l'hai hai un tuo blog vuoi provare vuoi sperimentare e farlo oppure per chi non ha niente di tutto ciò consiglio google merchandise store che cos'è è l'e-commerce di google che vi dà la possibilità di accedere ai dati di analytics quindi voi potete andare a vedere i dati di google analytics di google merchandise store e giocare sull'e-commerce facendo il report lo trovate cercando google analytics account demo lo trovate e semplicemente accedete quindi potete giocarci quanto volete vi dà la possibilità di leggere i dati che sono anche veri bello questo non lo sapevo bello molto interessante giustamente l'inda dice che ci sono anche tutti i corsi google analytics vero c'è la google analytics academy con tutti i corsi grazie certo vero visto che hai speso un sacco di brutte parole su google analytics for giustamente ti chiedo ma scusami allora in base a quello che dici te secondo te è meglio aspettare prima di passare a analytics for allora sono percezioni personali cioè quindi diciamo lo metto giù io un po' così in realtà è una domanda onesta fatta da diego vi posso dire che io sto facendo fatica quindi magari è un problema mio però faccio fatica a entrare in questa logica perché hanno proprio cambiato rispetto io poi magari ho iniziato fin da diciamo dalla versione iniziale anzi quando prima si chiamava urchin che era diciamo l'azienda che comprarono e quindi hanno seguito un filone che poi a un certo punto si è staccato e si è evoluto e lo hanno anche riconosciuto stanno lavorando per migliorarlo quindi come dire per renderlo un po' più come dire più semplice più anche più come dire più simile a quello che era la percezione di prima è ovvio che poi andiamo lì cioè nel senso non è che va contrastata all'innovazione anzi va solo accolta è solo che in questo momento uno lo guarda un po' no con distanza due minuti prima delle otto e dieci e quindi ultime due domande dai ce la facciamo velocissimi chiede Francesca search console google tag manager google analytics consigli di utilizzarli tutti di utilizzarne solo uno certo sono tre cose come dire che si includono google analytics volendo io posso prendere il codice di analytics e metterlo nel mio sito oppure posso usare tag manager che metto nel mio sito che richiama il codice di analytics questo ovviamente lo faccio perché tag manager è un contenitore di codici che mi consente di mettere quello di facebook quello di analytics piuttosto che e search console invece all'interno anche di analytics serve a capire le persone che fanno ricerche dentro google quindi sono altri dati quindi tag manager diciamo include analytics che analytics include il search console per dare come dire una connessione tra l'altro il passaggio questa la faccio io perché ho visto che stavano stavano chiedendo anche google analytics for il passaggio per chi ha già google analytics avverrà in automatico immagino da parte di google nel senso che ti manderà una notifica e farà il passaggio no? io non lo so sinceramente dovrebbe essere fatto l'upgrade c'è già la possibilità uno fa l'upgrade e fa l'aggiornamento perché esatto lo deve fare o in autonomia oppure attenderà ma prima o poi immagino che il passaggio avverrà forse passeremo lì però vorrei passare a una piattaforma quando mi sento confidente chiaro nel tempo continuo a studiarla nel senso che magari dobbiamo semplicemente alzare noi come dire il modo il mondo è così poi alla fine cambiano le cose ti devi adattare non sono uno che contrasta l'innovazione è un attito aperto su mille fronti anche noi in casa i nostri clienti lo sapranno che abbiamo cambiato i pannelli di controllo l'anno scorso è sempre una sfida è sempre un rischio anche però è ovvio che c'è chi ti ama c'è chi ti odia c'è chi deve cercare di capire come destreggiarsi è normale nell'evoluzione di tutte le cose e i feedback negativi servono sicuramente per l'azienda per fare data analysis e migliorare tutto quanto ultimissima domanda di Elisabetta chiede senza collegare analytics a tutte le pagine non posso quindi avere un'analisi dettagliata del mio sito no perché funziona mentre se tu ad esempio usi SiteGround giustamente lavora sui file log quindi sui file del tuo server dove è il tuo sito e quindi tu ti vedi tutti i dati analytics per funzionare ha bisogno di un codice che tu metti in tutte le pagine se non ce le metti non può far niente perché non può accedere al tuo sito non ha l'ftp o diciamo degli accessi per accedere quindi sei tu che devi mettere questo codice e attenzione quando metti questo codice mettilo in tutte le pagine perché se una pagina manca lui non lo sa e quindi alcuni dati non ci sono infatti stavo appunto leggendo che lei diceva perché poi io ti do sempre un estratto perché lei diceva io ho analytics collegato ma senza codice inserito nelle pagine e quindi non vede niente esatto esatto non funziona diciamo va bene siamo arrivati alle 8 e 11 addirittura abbiamo fatto un'ora e 11 in realtà qualche minuto in meno perché siamo partiti un po' in ritardo che dire abbiamo risposto praticamente a tutte le domande che come al solito sono tantissime speriamo di aver fatto cosa gradita nel dare tutte queste informazioni ritengo che sia la presentazione che tutte queste risposte alle domande che hai dato siano state chiarissime e veramente interessanti io ti ringrazio nuovamente per la disponibilità che hai dato questa sera ringrazio tutte le persone ovviamente che ci seguono e ci continuano a seguire mese su mese dico sull'ultima cosa prima dei saluti finali prossimo mese non vi sto a dire la data esatta perché non me la ricordo più o meno siamo intorno sempre al 19 20 febbraio prossimo webinar il tema varia totalmente andremo a parlare di LinkedIn quindi abbiamo deciso di ho deciso di parlare dell'utilizzo di un social media dell'utilizzo intelligente delle strategie da applicare per l'utilizzo di un social media che tante volte non viene utilizzato nel modo corretto non viene utilizzato in nessun modo e quindi parleremo con un esperto di questo detto questo io saluto tutti vi mando una buona serata e ciao Alessio ci vediamo alla prossima grazie ancora è stato un piacere ciao ciao ciao